Salve ragazzi, video in chiaro, lo possono vedere gli iscritti quelli che ho su Youtube e gli iscritti quelli che ho su Ariamax che dopo loro commenteranno. Lo faccio un pochino lungo, visto che io non faccio video ogni 2 minuti come fanno tanti miei colleghi che ogni giorno fanno 2.000 video, cosa che a me non è mai interessato fare una cosa del genere. Allora, partiamo la partita di stasera, la Juventus, la Juventus che come si dice ogni volta che segna c'è sempre il fine a mano ma comunque non è una novità, lo sapete non è una novità, io non è che voglio far polemiche, non voglio far manco più polemiche sul fatto dell'allenatore perché sinceramente sono un po' stanco, poi alla fine ecco Di Bala è come più di qualcuno ha un po' giochicchiato così, poi alla fine insomma Di Bala è uscito fuori, ha trovato la botta, insomma ha fatto 2 gol ha fatto il secondo bellissimo, insomma ha fatto anche belle cose. Come io sossego che Di Bala secondo me anche quando non gioca bene dovrebbe giocare perché può trovare sempre la botta perché è uno che ce l'ha proprio, ce l'ha il colpo ce l'ha sempre Di Bala. Però vabbè, si è vinto 3 a 1, che ha vinto 3 a 1, ci ha segnato Caterinz ci ha segnato Caterinz. Sì, vabbè lì abbiamo regalato diciamo Soko, gli abbiamo regalato un po' insomma una Juve un po' impacciata è stata in quel momento ma però tutta la partita abbiamo giusto ecco fino a che non, come si dice, abbiamo abbiamo, come si dice, tiriamo sempre i remi in barca quando facciamo un golletto poi quando dopo l'uno ci segnano e magari la Juve si ricomincia un po' a muovere perché c'è proprio questo tipo di gioco che a volte dà fastidio, non riesci mai ad ammazzi l'avversario no. Vabbè, tanto questo è risaputo, l'ho sempre detto, sono tre anni che lo dico, perciò non è che cambia tanto perché la Juve dispone del sacco di gente, dispone da tanti cambi, ricambi, giocatori che possono costituire titolari, che tante volte non si capisce chi ha tirato a Napoli perché la Juve è questa e a volte le partite vengono risolte, come avete visto. Comunque, e niente, stiamo a un punto da Napoli e parliamo un attimo delle altre che stanno dietro. Oggi la Roma ha fatto lo 0-0 con il Sassuolo cazzarola, minchia. Poi c'è stato quel gol di Florenzi certo che stavano è veramente tremendo è una cosa veramente uguale, da una parte c'è stato, gioisci, gioisci, fai esultare quelli che magari in quel momento segnano e poi fai esultare quell'altro, è una cosa incredibile stavano insomma, Florenzi segna sotto la curva, ha fatto un film, ha fatto e poi alla fine l'ha annullato perché era un fuorigioco. E' quello che alla fine è normale, il tifoso in quel momento, io vedo, tu esulti, tutto quanto, però ormai l'esultanza secondo me deve essere trattenuta quando c'è stato un gol, quando si fa un gol deve essere trattenuta perché poi alla fine ecco, sono stati, quest'anno un sacco, parecchi cose sono stati non dati capito? E magari deve tenere del culo e ci rimani male, ci rimani, l'esultanza e poi tenere del culo, perché, però vedi, della parte è giusto che c'è stata questa cazzo di mare, perché alla fine si deve abituare, perché toglie un po' di ingiustizia su quello che magari uno pensa, dice, ah mi stava rubato, no, non ha rubato un cazzo, questo giro, perché se l'ha segnata da Roma così, ha vinto rubando. La Lazio, la Lazio pure stasera ha, insomma, rigore, rigore, poi mi è andata rigore, perché alla fine non era rigore, anche se poi la Lazio si è mangiato un par de co' veramente incredibili, poi ha sbattuto su, ha sbattuto addosso al piede e poi gli ha sbattuto sul braccio, insomma è stata una carambola, ma non era rigore. E poi ho sentito l'intervista di Inzai, che sinceramente sono rimasto un po' deluso, capito, che lui dice, il calcio dovrebbe rimanere quello che deve, preferisco giocare in Coppa UEFA, perché lì non c'è la guarda e quando, se ho capito, perché devi prendere, a me mi stanno sul cazzo, l'Inter mi stanno sul cazzo, ma perché devi prendere una cosa che non è, insomma, ecco, quella è l'ingiustizia. Poi, se Felipe Anderson non si pagnava qui Dugou, uno e poi l'altro clamoroso che l'ha buttata fuori, vabbè, non stavamo a parlare del Vard e qua, comunque, Inzai dice, ci sono stati defraudati 6-7 punti, no, significa che è una cosa che magari, anche se io sono simpatizzante transiale, però, quando tocca, le cose sono giuste, sono giuste, punto e basta. E, insomma, è stata, è stata una domenica un po', pure invece il Napoli, mi pare che la Vard l'ha favorita, a quanto dicono, perché c'era un rigore, capito, che, insomma, Mert, insomma, ha presa anche le mani, insomma, così ho sentito, perché non ho visto la partita ieri, e, niente, insomma, un campionato finisce con il giro d'andata con il Napoli campione d'inverno, un punto sopra noi, le altre se le stavano perdendo, l'Inter che veramente non riesce a segnare, se non segna i gardi, l'Inter non segna, qualcuno, qualcuno parla sempre male di gardi, e dove stanno gli altri che segnano? Se insegna, non insegna nessuno, sono cinque domeniche che insegna l'Inter, 0-0, poi inizia a perdere, poi in Coppa, niente, l'Inter non riesce, è una squadra che non riesce a segnare, non riesce a fare gol, dopo quel 5-0 con il Verona si pensavano che l'Inter era diventata una squadra esplosiva, è stata veramente, letteralmente ridimensionata, letteralmente ridimensionata, e quello è triste, triste, molto, molto triste, purtroppo è una brutta faccenda, e poi quando non riesce a fare più risultati, va un po' in depressione, ma l'Inter è stata sempre un po' così, infatti ho detto, è un presentimento, mi sembrava un po' quella dei Mancini, quello che fece, è un presentimento, comunque, certo, all'inizio, insomma, l'Inter gli stanno togliendo quello che ha preso all'inizio, tipo la vittoria da Roma che doveva vincere, insomma, due o tre partite che proprio veramente, ecco, adesso diciamo che l'ha ridimensionata, l'Inter è ritornata ridimensionata, quello che ha rubato prima, tra virgolette, è stato defraudato adesso, è stato defraudato, insomma, i conti, come si dice, poi tutto torna, alla fine, i torti e i favori, insomma, le cose, o le sculate, tutto torna, perché il pallone è così, dà e prende, comunque, vabbè, l'Inter è, beh, la squadra è un po' sempre la solita Inter, di che stiamo a discutere, di che cosa parliamo, sempre la solita Inter, e niente, il campionato è Napoli, e Napoli ha vinto 1-0, ha vinto, però, insomma, ha faticato, a quanto pare, noi uguali, noi uguali abbiamo trovato quel gol di Dibala, di destro, tutte e due di destro, ha fatto, tipo, di bala, tutte e due di destro, però, insomma, Dibala ha fatto, alla fine, ha fatto, insomma, ha fatto la differenza, la differenza, e questo è la cosa, è la cosa, è la cosa, è la cosa molto, molto importante, che è tornato Dibala, che, insomma, piano piano, dopo, aveva fatto un po' di panchine, e ha fatto, eh, insomma, mo' se sente un interessamento del Paris Saint Germain, così, voci, girano voci, Dibala, che forse, potrebbe andare al Paris Saint Germain, ma, comunque, staremo a vedere, e, niente, io non so come avete passato il Natale, se l'avete passato bene, insomma, quello che avete fatto, insomma, spero che siete stati bene, e, niente, mo' arriva l'ultimo dell'anno, e, infatti, questo è l'ultimo video dell'anno che faccio, poi ci vediamo l'anno prossimo, ci vediamo l'anno prossimo, e, i video che farò, farò, insomma, i video completi li farò su AreaMax, e, e qua farò i mini spot, mini spot, quando farò un video, metterò il mini spot, per suggerire a chi si vuole iscrivere, e passare sul canale, sull'altro canale, e, niente, questo, questo è il quanto, poi, come ho detto, poi, ripeto, lo ripeto, poi, dopo, prossimo anno, insomma, adesso, i prossimi video, farò, insomma, sponsorizzerò sempre il fatto delle vacanze, che ci sarà l'estrazione della vacanza, e, perciò, a chi vuole lasciarmi il numero di già iscritto, e, chi si vuole iscrivere per fare in tempo, per entrare a far parte di chi l'ha estratto, se lo scrive, a AreaMax, scrive, e mi lascia il Whatsapp, con il Whatsapp, ti iscrivi e mi lascia il Whatsapp, per partecipare alla vacanza, gratis, gratis, e, niente, questo, per il momento, questo è il quanto, qui, il Natale, da me, procede, procede bene, tutto esaurito, tutto pieno, tutto pieno, anche se quest'anno fa un pochino più fresco dell'anno passato, un pochino, tanti dicono il clima che sta cambiando, però, qui fa, dicono che sta aumentando, le temperature aumentano, quindi quest'anno mi fa un pochino più fresco, se sta 1-2 gradi in meno dell'anno scorso, se sta l'anno di media, però se sta bene, se sta bene comunque, non è che fa freddo, fa fresco, se sta bene, il giorno se sta in maniche corte, in carzoncini, e poi la sera ti metti il ragioncino, e un paio di garzoni, ecco, ecco come si sta, e, niente, e, poi, del resto, che vedevo di, che vedevo di, ieri siamo entrati in discussione sul fatto dei Vasco Rossi, sul fatto che, insomma, ha fatto, c'è stato il concerto su Rai 1, mi pare, ieri sera, o l'altra sera, mi ricordo, l'altra sera, è stato il concerto dei Vasco Rossi, trasmesso tutto, senza l'interruzione della Rai, che c'è, bonolis, tra interviste e cose varie, è stata una discussione, se parla, e io, diciamo che sono un fan dei Vasco Rossi, diciamo, mi piace a me, insomma, i canzoni dei Vasco a me mi piacciono, e, e, c'è stato su Facebook, una marea di commenti, ci sono stati, e, vabbè, qualcuno, insomma, due, tre di questi, e, non so, a favore, insomma, vabbè, ognuno la può pensare come gli pare, questo è, però, sinceramente, quando si discute di un artista del genere, che te fa 220.000 paganti, 220.000, 230, ma, come ricordo, perché poi me ne hanno vinto tanti 10.000 biglietti in ultimi, eh, in ultimi 20 giorni, perché, così, è quello che ho sentito, insomma, te fa un numero dei paganti del genere, spettatori paganti, te fa quello che te fa, eh, tante volte i paragoni, fanno i paragoni, no? Eh, però, quello è meglio, quell'altro è meglio, la musica suona è merda, l'altra musica è merda, no, no, i numeri parlano, parlano, appunto, parlano per lui, appunto, non c'è sta, per i concerti, Vasco è il numero uno, non c'è stanno altri, non c'è sta nessun altro, ma proprio nessuno al mondo in Italia, perché Vasco, non so, all'estero, non lo sapete che non canta all'estero, sapete che non fa dischi per l'estero, in Italia, lui, potete portare, chi vi pare, potete portare i più grandi artisti del mondo, non fa nessuno, fa i numeri che fa lui, appunto, stop, ma questo perché, perché, perché è amato, è amato tanto, perché, perché fa delle canzoni veramente belle, tessi belle, musiche pure belle, secondo me, anche se tanti dicono era meglio il vecchio Vasco, quello di qualche anno fa, ma io non sono, non sono d'accordo, perché secondo me Vasco si è voluto molto, ha fatto tante altre, altre, altre canzoni dopo gli anni 90, che tanti dicono, è lì che c'è da cambiare, invece, secondo me Vasco si è voluto, e non solo, ha sempre, è sempre salita ancora di più, mi sa, dice uno c'ha un carro, no, invece, dopo quegli anni lì, tanti dicono che Vasco non vale niente, invece è ancora salita ancora di più, perciò, secondo me Vasco non si discute, punto e basta, chi discute Vasco, non è perché io voglio sminuire, o magari ti devo dire che tu sei un deficiente, che non capisci niente, Vasco ha preso pure l'onoreficenza come attestato di laurea per scienza delle comunicazioni, insomma, non sono degli scemi qualsiasi che gli danno una cosa del genere, insomma, gli hanno dato dei professori a fermare tutto quanto per scienza della comunicazione, perciò Vasco quando canta, comunica, cosa che tanti non, vabbè non è inutile che fai parli, che tanti non capiscono, lasciamo perdere, insomma, poi, detto da tanti altri artisti, insomma, considerato da molti artisti, specialmente chi è tipo Ramazzotti, ha considerato Vasco, Vasco è il numero uno, Ramazzotti, che Ramazzotti vende nel mondo, insomma, lui è conosciuto, insomma, nel mondo, dice Vasco è il numero uno, c'è stato cazzo da favore, ma non solo lui, ma anche tanti altri, insomma, è inutile che tu ti arrampichi sugli specchi e cerchi della scusa del cazzo per dire, non ti piace, vabbè, non c'è problema, punto, ma non che devi dire che era merda, che è qui, quella, perché queste cose mi piacciono, perché a me, quando tu mi dici, ah, è meglio Rado Zero, è meglio, che ne so, Ramazzotti, è meglio Ligabu, è meglio, perché è meglio Litfiba, è meglio, non è che c'è meglio o peggio, sono tipi di musiche differenti, punto e basta, uno accetta quella musica, a me mi piacciono tutti, però sono tutti quelli che ascolto, per me Vasco è quello che mi dà più emozioni, che mi dà, ecco, poi se uno l'emozione non le prova, è un paletto, è come una donna, no? Una donna che ti dà l'emozione, che ti fa sentire, fa sta bene, a differenza di una che è tipo, di strada, che non ti dà quell'emozione, per far te capire, ecco, tanti mi riescono a strada, la cosa chiede, io prescrivo, donne che ti danno emozioni, io, comunque, a prescindere di questo, vabbè, dopo aver parlato della Juve, del campionato di Vasco, insomma, ho detto il video, è un po' lunghetto, perché, visto che io ne faccio, non è che faccio video ogni 30 secondi, come fanno tanti, perciò, insomma, ho voluto parlare un po' di questo, poi è successo, c'è successo un fatto di quello che hanno condannato, quello che hanno condannato, che ha sparato, insomma, vabbè, la giustizia italiana, di che cazzo sta a parlare, poi ho visto un filmato, ieri, l'ho pure pubblicato, l'ho condiviso, su una monnessa, insomma, in Sicilia, c'è stato un punto della strada, che è veramente una cosa, ragazzi, vergognosa, cioè, sarà stato un minimo 400 metri, troppo un cumulo di monnessa sulla strada, che non finiva mai, ma veramente è una cosa schifosa, ecco, è proprio questo, veramente, in Italia c'è stato veramente lo schifo, poi magari sono quelli che buttano i sacchietti in mezzo alla strada, che poi dicono, ammazza, poi è lo schifo, qui è un casino da qua, della madre, di che stanno a parlare, di che cosa parliamo, di che poi, un paese veramente, boom, ma che cazzo ne so, come ho detto, ho fatto l'altro giorno, l'altro giorno, ho fatto un video che il 4 marzo ci saranno le elezioni, spero che, insomma, andrete a votare tutti, sperando di dare un voto, soprattutto no, a quelli che stanno ancora al governo, spero che non date a quelli, io devo sentire a Grillo o Berlusconi, insomma, uno dei due, e vedremo un po' come finirà, io sono convinto che li vince la destra, vince la destra, Berlusconi vince, perché, ma no perché i grillini, non lo so, boh, anche se magari una chance toccherebbe Daiera, però non mi convincano ancora a questi grillini, non lo so, boh, c'è qualcosa che non mi convince, questi ragazzetti, non lo so, ma no perché dice, allora Berlusconi, no, non è che mi convince o non mi convince Berlusconi, perché c'è solo queste due possibilità, non c'è solo altre possibilità, perché è meglio, quando devi votare i comunisti, è meglio votare Berlusconi, non devi votare i comunisti, insomma, quelli che sono stati di rinforzo al governo, non c'è, questi hanno ammazzato l'Italia, questi, questi che hanno lasciato l'Italia, l'hanno ammazzata, perciò noi stiamo a parlare, prima o meno, anche se c'era Berlusconi, un pochino stavate meglio, un pochino stavate meglio, però, vabbè, sarebbe a vedere, il cambiamento, il cambiamento diciamo che dovrebbero essere i grillini, dovrebbero essere, però, come ho detto, non lo so, non c'è qualcosa che non mi convince loro, non so neanche io che cosa che non mi convince loro, non lo so, forse, come ho sempre detto, il troppo lamentarsi, il troppo attaccare il nemico, perché loro hanno questo vizio brutto, attaccano sempre il nemico, e questa è una cosa che io non sopporto, tu fai quello, se sei bravo, fai quello che devi fare, dici quello che devi dire, cerca di mantenere quello che dici, senza stare a dire, ah, loro hanno fatto i danni, è stato questo, hanno fatto quello, come sempre ho detto, tu sai, eh, quando c'è stato loro, allora hanno fatto il casino, eh, c'è stato le prime, i vecchi governi hanno fatto questo, hanno fatto questo, ah, quella tipo, Giulio Cesare, Romolo e Remo, tutte queste stronzate qua, eh, appunto, eh, ci hanno lasciato questo, ci hanno fatto questo, se tu non riesci a risolvere il problema, se tu te cambi, è perché lo devi risolvere il problema, non voglio sentire, che prima c'erano quelli e mogna la famo, è dura, non voglio sentire, e quello è il problema, se tu te candidi per governare, per fare, perché devi risolvere il problema, punto, non ce ne frega un cazzo come, perché quello, perché tu, alla fine, con questa scusa, di quelli che hanno fatto questo, quello e quell'altro, stiamo sempre da capo a 12, anzi, state sempre da capo a 12, e non se ne esce fuori, alla fine, anche se entrano i grillini e diranno, ah, però, quelli hanno fatto questo, ci hanno lasciato qui, alla fine, che fa, poi, alla fine, ci fanno un cazzo, con questa scusa, che fa, te vi hai parato il culo con le scuse, quelli che hanno fatto, no, tu, ti sei candidato, e devi risolvere il problema, punto e basta, non me ne frega un cazzo, voglio sentire, ah, però, questi hanno lasciato questa, ma, non me ne frega un cazzo, se no, non ti candidare, non ti candidare, non ti candidare, questo è come la penso io, perché se non riesci a risolvere il problema, che cazzo stai stai candidato a fare, per rubare i soldi, come fanno quest'altro, per rubare lo stipendio, che rubano uno a uno, ecco, e allora, non rompere i coglioni, ecco, gli abito così, perciò, per questo io, dei lì, ne so, un po', questa cosa che mi fa, mi fa un po', capito, però, il resto, non è sta, sta cosa qui, tutto giusto, però, tocca mettere in atto un po' tutto quello che loro dicono, senza fare, che ne so, proclami contro chi magari è stato da schifo prima, capito, e magari dire sempre, ah, questi e questi, ma, non voglio manco sentire questi, questi hanno fatto, hanno fatto, questi ci hanno lasciato, ma, basta, basta, se sei candidato, ecco, lascia perdere quello, lavori, non rompere i coglioni, cerca da sistema a sto paese, se no, lascia perdere, non sta lì, se no sei come l'arte, se uno che cerca da maniare come l'arte, punto e basta, va bene, io, dopo questo, dopo questo, insomma, sono più di 20 minuti che sto qui con voi, spero che il video vi è piaciuto, spero che passiate un anno, un fine anno e un inizio ottimo, spero, spero che l'anno nuovo vi dia quello che magari non mi ha dato quello passato, o magari chi ha avuto, che sa, chi l'ha avuto buono l'anno passato, spero che sia meglio, insomma, tutto il bene possibile, ok, ragazzi, io vi saluto, vi do un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene, a quelli che mi vogliono bene, all'arte, ai stronzi che scrivono minchiata, a quelli che scrivono minchiata, a quelli che, eh, vabbè, ti affanculo, perché tanto è inutile dire, vabbè, siamo più buoni, ma più buoni di che, ma più buoni di che, che poi alla fine tu vuoi far buono e l'altro ti scrive minchiata, ti affanculo, ma te dico solo, vai a fare in culo, ecco, spero che sia un anno che viene atroce per te, per tu che mi hai insultato, mi hai maltrattato e mi hai fatto tutto quello che mi hai fatto in questi ultimi, ultimi tempi, e mi hai costretto a fare un canale, perché io non volevo fare il canale a pagamento, no, non lo volevo fare, purtroppo questi miserabili li auguro un anno atroce, ok, perché è giusto quello che sembra, perché se io ho lasciato il canale YouTube per fare questo così, l'ho fatto per questi pezzi di merda, perciò a te pezzo di merda, ti auguro che passi il peggio anno possibile, invece a chi mi vuole bene, il più bene, come si dice, il miglior bene glielo ricambio, e spero che vi va tutto bene, ok, ragazzi, io vi saluto, tanti auguri, e niente, se vediamo il prossimo anno, ciao!